Buonasera a tutti e a tutte. Devo dire che io sono particolarmente emozionata perché circa 21 anni fa ero dall'altro lato, quindi ero seduta non lì dove siete voi, ero in corso Dante e il mondo nel frattempo è cambiato moltissimo. Pensate che quando, ecco io già comincerò a fare, volevo mettere la prima diapositiva ma in un modo decente, perdonatemi eh, ecco così quello che diceva Lorenza, prende anche corpo in questa diapositiva. Vi dicevo quando ho cominciato io dovete pensare che i social erano i balconi di corso Dante, c'era lì che si socializzava e io ricordo perfettamente che non fumavo, ho fumato per i due anni della scuola per poter fare amicizia stando in balcone. Allora, quello che faremo oggi insieme, io vi farò fare, anzi costruiremo insieme una passeggiata in quello che per ora è una specie di officina aperta nella mia testa, le cose su cui sto lavorando, che hanno a che fare anche col percorso che ho fatto, per cui lo racconterò abbastanza velocemente. Il titolo che ho deciso di dare a questa lezione è ricordare il futuro, il futuro è innocente, da Anassimandro a caos e sulla necessità di pensare pensieri nuovi e immaginare un mondo più reale. E adesso a poco a poco vi dirò perché. Come molti di voi avranno sentito dal mio accento non sono torinese ma sono siciliana. Quanti siciliani ci sono tra di voi? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ok, perfetto. Io ricordo perfettamente che la prima lezione che ha fatto il preside alla quale ho assistito, lui chiese quanti siciliani ci sono e disse due cose, dice bene la prima dovete fare conto che adesso loro stanno studiando tutti nella stanza e li stanno localizzando per capire chi sono. E questo è parzialmente vero. La seconda è una lezione che invece io tengo presente anche oggi in qualunque cosa io mi accingo a fare perché lui mi disse ok sei siciliana, stai attenta, cerca di modulare quel fuoco d'artificio che ti esplode alle spalle tutte le volte che dici sono siciliana. Non è una cosa che succede solo a noi siciliani, sicuramente succederà anche ai toscani e ai romani, però noi siciliani dobbiamo stare particolarmente attenti e per condividere con voi che cosa vuol dire essere siciliani io volevo partire da questa immagine. Questa immagine è il dettaglio di un mappamondo realizzato alla corte di Re Ruggero nel 1154. Lo ha fatto Mohamed Al Idrisi che era un viaggiatore, un cartografo che dopo aver viaggiato per buona parte del Nord Africa, buona parte dell'Europa, si è stabilito alla corte di Re Ruggero II perché non si stava male alla corte di Re Ruggero. E' stato un momento particolarmente felice per la Sicilia che poi culminerà con Federico II che magari qualcuno di voi conosce perché era un momento in cui in quel passato si stava già concretizzando quella che è un'utopia alla quale ancora noi tendiamo, ovvero una collaborazione interculturale. Lavoravano insieme gli arabi, gli ebrei, gli uomini del Nord Europa, i greci ortodossi e lavoravano anche dentro le chiese, ognuno mettendo la sua specifica competenza. Se qualcuno di voi passa da Palermo e va a vedere la Cappella Palatina, che è la Cappella di Palazzo, vede perfettamente questa sintesi di culture che si sono messe a lavorare insieme, qualcosa che si è realizzato intorno all'anno 1100, alla fine dell'anno, all'inizio del 1200 in Sicilia, alla periferia dell'Impero, che però allora era appunto invece questo. Perché che cosa notate? Di questa che era, che è stato il mappamondo più preciso per tre secoli. Mappamondo dovete immaginare però non in forma sferica, era bidimensionale. Con questa immagine forse lo vediamo meglio se io vi dico che l'Inghilterra, io non ho un pointer, l'Inghilterra è quella cosa lì, quindi forse con queste immagini viene più facile vedere che non è una mappa rovesciata, ma è il punto di vista che è completamente diverso. Per Mohamed Alidrisi, che era marocchino, il nord è la Sicilia. E la Sicilia in quel momento però era veramente il nord, con tutte le accezioni che noi diamo a questo essere no, quel punto geografico che ti dà una direzione. Vuol dire anche però che noi siciliani, se vogliamo avere ragione, siamo anche capaci di capovolgere il mondo. Lorenza vi ha accennato, queste sono più o meno le cose che ho fatto. Io scrivo, ho fatto la scuola come voi, non è elegante dire quanto ha cambiato la mia vita, questo lo scoprirete nei prossimi due anni. Anni in cui, prestissimo, dovete aspettare maggio, non sarete più soltanto quelli della Holden, ma sarete quelli delle feste. Io non partecipo a una festa da non so quanti anni, ma ancora la prima cosa che mi dicono quando mi presento, ma voi allora siete quelli delle feste pazzesche. Beh sì, siamo quelli delle feste pazzesche, anzi ho intenzione di cominciare, riprendere a frequentarle. Io subito dopo la scuola ho cominciato a lavorare per la radio, qui a Torino, a scrivere. Io volevo scrivere, volevo fare di tutto per poter guadagnare quello che mi bastava, però scrivendo. L'ho fatto in diversi ambiti, direi quasi in tutti, perché appunto la prima cosa è stata la radio, Radio 2, poi il teatro con Emma Dante, questo è un frammento di uno spettacolo che si intitola Cani di Bancata, che è stato, sono state circa due anni a lavorare con lei, che è una drammaturga famosa per non scrivere i suoi testi, però io ero la sua assistente e vi giuro che aveva un senso ed è stata una palestra meravigliosa. Lavoro come ghostwriter, questo lo faccio da circa 14 anni e poi magari alla fine, perché questa sarà una conversazione che spero poi si animerà anche delle vostre curiosità, se quello che sto per dire non è chiaro o se ci sono anche curiosità sul mio mestiere. E magari quello di ghostwriter non è così ben messo a fuoco. Ho scritto due romanzi, il primo pubblicato da Cairo nel 2018, La disobbedienza sentimentale e si para da Esconsellerio. Da 14 anni mi occupo di cultura per Repubblica, soprattutto dalla redazione siciliana, e dirigo una rivista, un semestrale, che si intitola Mezzocelo. Mezzocelo mi fa piacere spendere due parole perché è veramente un manifesto di resistenza perché questo titolo, che è il titolo dell'ultimo numero, ha parecchio a che fare con quello che andremo a raccontarci oggi. Mezzocelo è una rivista fondata a Palermo nel 1991. Anni 90 Palermo, anche qui magari qualcuno lo ricorderà, nel 92 salta in aria un'autostrada e a distanza di pochi mesi muoiono Giovanni Falcone e Paolo Borsillino. In quel momento c'è stata una risposta della società civile straordinaria e questa rivista è figlia di quel momento lì. L'ha fondata una fotografa, che è Letizia Battaglia, con l'idea che è da Palermo. Palermo potesse diventare appunto quel punto di osservazione per raccontare il cambiamento necessario, per riprendere in mano la responsabilità politica e civile della società. Infatti è una rivista di politica, cultura, ambiente, pensata e realizzata da donne. La redazione è costituita esclusivamente da donne, ma scrivono anche gli uomini. Tra l'altro vi dico che l'età media della mia redazione è di circa 72 anni e io abbasso notevolmente la media e non dovrei più farlo, vista la mia età ormai considerevole. Antenate del futuro, che è appunto il titolo dell'ultimo numero, a dicembre uscirà il secondo del 2024, vuole proprio mettere l'accento sul fatto che oggi noi, che ci prendiamo la responsabilità, di scrivere e di fare un semestrale cartaceo, che è veramente quasi un dinosauro, eppure ci sbattiamo per trovare finanziamenti e trovare appunto risorse e tempo per scriverci dentro, lo facciamo con la responsabilità di chi domani sarà appunto, avrà passato il testimone. Allora che tipo di testimone vogliamo passare domani? Cominciamo a deciderlo oggi. L'ultima cosa di questo momento autorreferenziale, faccio parte di un'associazione, anche questo è attinente a quello che vorrei raccontarvi, io faccio parte di un'associazione che si chiama Le Femminote, è un gruppo di creative, di artiste, che hanno deciso di comprare quest'isola, quella che vedete, ah ecco c'è un pointer, in mezzo al mare, questa è Isola delle Femmine, esiste un comune, vicino Palermo si chiama proprio Isola delle Femmine, che prende il nome da questo isolotto, questo è un isolotto completamente deserto, dove c'è soltanto questo rudere, che non si sa neanche bene che cos'era, alcuni dicono una prigione femminile, altri un convento dove appunto c'erano soltanto, però c'erano soltanto donne su quest'isola un tempo, che è un tempo misterioso perché veramente non si sa nulla. Adesso è una riserva Lipo e ci sono soltanto, è affascinante andare a fare una visita, soltanto gli ossicini di tutti i resti dei pasti dei gabbiani, che vanno in giro per la città a mangiare di tutto, dai polli ai pesci agli altri uccelli, e vanno a depositare le ossa lì, quindi è una specie di reliquiario. Quest'isola che appunto ha vincoli paesaggistici anche perché è vicino all'aeroporto, è però in mano ai privati, e la paura è che prima o poi, siccome i vincoli in Italia fanno prestito a modificarsi, prima o poi qualcuno se ne approprierà e ne farà qualcosa. C'era un vecchissimo progetto, pensate che fa capo niente meno che a Frenzinatra, che forse il 99,9% di voi non conosce, che voleva addirittura comprarlo per farne un ristorante, te la voleva comprare e farci un ristorante. Bene, noi abbiamo deciso come associazione di lanciare un crowd, di costituirci, appunto diventare un'associazione e lanciare un crowdfunding per far sì che quest'isola venga comprata solo ed esclusivamente da donne o da chi si riconosce nel genere femminile, attraverso quote di 10 euro. L'isola costa 2 milioni di euro, quindi abbiamo bisogno di 200 mila donne, ma non ci spaventa. La cosa importante è che vogliamo comprarla per lasciarla in pace, per mettere il vincolo che niente debba accadere lì, ma neanche mettere, dice, restaurare, ripristinare. No, lasciare sì che il vento, gli agenti atmosferici se la prendono, la modifichino. È là un'isola che affronta il suo destino di isola in mezzo agli agenti naturali. Queste sono delle opere perché stiamo cercando di aiutarci con tutti i mezzi di cui siamo capaci. Io ho anche fatto viaggiare per ora un quaderno che viaggia di isola in isola a raccogliere i racconti delle donne che abitano in altre isole. L'idea appunto è che il futuro che noi, per il quale noi cominciamo a lavorare oggi, possa avere spazio anche per progetti di questo tipo, in cui il paesaggio non viene per forza messo a profitto, ma venga anche semplicemente lasciato in pace. La mia formazione. Per me questo è forse il momento più prezioso quando lo racconto e forse ognuno di voi può ricordarsi il suo. Io credo che se sono stata così determinata a volere scrivere, occuparmi di narrazione, fare dell'immaginazione qualcosa con la quale poter veramente lavorare, è perché nella mia vita ci sono state queste tre donne che hanno portato ognuna un attributo diverso. La zia Pina era la classica zia che non si è sposata, vecchissima, che vive a casa e che è totalmente a disposizione di chi ha bisogno di lei, possibilmente dei bambini piccoli. La zia Pina aveva una dote meravigliosa, conosceva a memoria ed era anche capace di arricchire tutte le fiabbe della tradizione siciliana. Fiabbe che lei sapeva fare durare anche due ore, per cui credo che dai quattro ai sei anni e mezzo, poi è morta, io ho sequestrato la zia Pina, le ho impedito qualunque tipo di attività sociale in famiglia, se non quella di stare con me a raccontarmi a ripetizione queste fiabbe. Ad arricchire questo corredo c'era la nonna Carla, che era la madre di mia madre, che invece, un po' per compensare, non conosceva neanche le favole più banali, neanche cappuccetto rosso. Però ha messo in atto un'operazione geniale, quella che poi ho scoperto, è un piccolo segreto quando hai il blocco dello scrittore e devi andare avanti, che praticamente è guarda la realtà, dalle un twist e raccontala. Perché mia nonna risolveva così, ha preso la bambina che abiteva al piondi sopra, che aveva più o meno la mia età, e le ha fatto fare tutto quello, cioè nel suo racconto, questa bambina che si chiamava Laura, poteva fare tutto quello che io non potevo fare, quindi si poteva truccare, si poteva mettere i tacchi, poteva dire le parolacce, poteva fare le monellerie più assurde, creando questo personaggio seriale, perché ogni volta volevo sapere cosa aveva fatto Laura del piano di sopra. E poi la mamma, una mamma che lavorava, appassionatissima del suo lavoro, quindi che vedevo la sera, e che però la sera aveva la pazienza di mettersi accanto a me e di leggermi invece i libri meravigliosi, tipo Circo di Picquic, l'Isola del Tesoro, e le fiabbe di Andersen. Le fiabbe di Andersen, forse la prima volta, perché dopo averle sentite tutte, io ne ho voluta sentire e ascoltare sempre solo una, che è il babbo, ha sempre ragione, motivo per cui poi forse molti anni dopo divento femminista, dopo aver dato ragione al babbo per tutta l'infanzia. Io faccio il liceo classico, sono la classica studentessa che ha capito un po' qual è il segreto, ovvero farsi subito la nomea di essere una abbastanza sveglia, e quindi studiare il minimo per rendere il massimo, e però da sempre mi sono divertita ad avvicinare le cose distanti tra di loro. Quando finisco il liceo e devo decidere cosa fare, ma già appunto, l'obiettivo era sempre quello, io volevo scrivere e raccontare, quindi non vi sto a dire, mandavo i racconti ai concorsi, provavo a fare corsi di scrittura creativa, in città, tutto quello che si poteva fare all'interno del liceo lo facevo, il giornalino del liceo. Quando decido che corso universitario fare, io voglio studiare storia dell'arte, perché lo trovo bello, e però siccome ho una certa propensione per le cose difficili, mi stimolano, per esempio io non so cucinare nessun tipo di dolce facile, però se mi mettete in mano la ricetta del crocambuscio, del savarenne, io mi metto e lo faccio, perché mi diverte sperimentarmi con la sfida. E quindi cosa mi invento? Ok, studierò storia dell'arte, però lo faccio da lettere, lo faccio da lettere, e lo faccio da lettere antiche, perché è più difficile, perché c'è il greco. Evidentemente però era tutto un piano del destino, perché succede questo, che frequentando un laboratorio di greco, nello specifico di greco-omerico, mi innamoro follemente di quello che succedeva in quel laboratorio, e cambio completamente il piano di studi, il che vuol dire che io non sono laureata in lettere antiche, io sono laureata in Iliade, neanche, cioè non so manco bene l'Odissea, se devo dire la verità, cioè se mi parlate dei lirici oppure del 400, del 500 della letteratura, zero. Però, ecco, se devo dire, c'è stata la Holden qualche anno dopo, ma prima c'è stato questo corso in greco-omerico. Era un laboratorio che si faceva in tuta, e già secondo me questo un po' deve incuriosire, cioè si studiava facendo esercizi fisici, perché quello che era importante trasmetterci era la dimensione fisica della comunicazione, perché nell'Iliade le parole hanno, sono oggetti, sono oggetti e sono entità prima di tutto fisiche, si possono montare e smontare, tu puoi prendere un pezzo di uno e la metti prima e cambi il significato, metti un pezzo dopo e si possono unire, e la dinamica della comunicazione si svolge veramente su un piano fisico e questa cosa ce la facevano provare anche utilizzando il nostro corpo. Quando noi traducevamo e dicevamo è un pensiero Agamemnon era concorde con Fenice, quando utilizzavamo il concorde dovevamo capire cos'era questo concorde e toccavamo il cuore dell'altra persona per capire in quel momento che cos'era la concordia, se le parole erano delle parole ispirate o cospirate o ispirate insieme ci si metteva schiena a schiena e si cercava questo respiro all'unisono. A me tutta questa cosa qua delle parole che invece nella vita quotidiana erano tutt'altro le parole non restano escripta manent tutto questo mondo orribilmente romano e latino veniva completamente sovvertito l'ho trovato meraviglioso e sono stati anni di studio divertente ma quello che mi ha veramente folgorato è questa espressione che un po' sintetizza tutto quello che vi ho detto fin qua le epea pteroenta che si trova è una formula che si trova un miliardo di volte nell'Iliade una formula che ha una traduzione ambigua e non ancora del tutto risolta ma è bello che sia così ed è bello anche scegliere da quelle parte della traduzione stare perché sicuramente si è andata a controllare sull'Iliade che avete a casa è molto più probabile che voi troverete questa espressione tradotta con le parole alate e se noi pensiamo alle parole alate io sono sicura che in ognuno di voi per ora si sta formando un'immagine di queste parole con le ali le ali sono canonicamente simbolo di libertà di possibilità di raggiungere qualunque luogo noi abbiamo le ali quando possiamo arrivare dove vogliamo in maniera leggera però anche in maniera parole con le ali un po' scomposta andare dove si vuole e se la pensiamo così è bellissimo io trovo che l'immagine parole alate sia un'immagine meravigliosa ma che ci porta a un certo tipo di immaginario c'è una possibilità di traduzione che è quella che ho sposato io e che a me intriga moltissimo ed è che sì queste parole hanno le ali è vero ma non sono le ali degli uccelli quindi quelle che si librano e vanno dove vogliono ma piuttosto sono parole alettate perché hanno le stesse ali che hanno le frecce perché quando io pronuncio una parola il greco americo ci sono tante tanti nomi per chiamare le parole e l'epos è la parola pronunciata quando io scaglio la mia parola come una faretra dal petto e la faccio uscire fuori metto a questa parola le stesse ali che hanno le frecce per darle una direzione precisa perché le parole non vanno in giro un po' confuse dove vogliono le parole devono colpire un obiettivo preciso e la fare centro e non solo questa dimensione si è un po' approfondita io adesso qua non sto troppo ad ammorbarvi sul greco omerico giuro che questa è l'ultima cosa quasi questa cosa ti dà anche l'idea di come immaginavano il dialogo tra due persone se le parole come le frecce devono colpire il bersaglio colpire l'interlocutore c'è un solo modo c'è una 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 traiettoria vincente su tutte le altre ed è quella della retta perché se io mando le parole in linea retta da A a B vado più veloce fendo l'aria meglio e centro il bersaglio e questa linea retta è la verità quando io dico la verità la mia comunicazione scivola su una retta fende l'aria con un sibilo lungo una linea retta quando mento vado faccio una parabola verso sotto tenete presente che il sotto che noi pensiamo che esista da sempre in realtà ci sono intere civiltà che neanche lo tenevano in considerazione se ricordate l'episodio del ciclope di Ulisse quando Ulisse si nasconde insieme ai suoi uomini sotto la pancia delle pecore e il povero ciclope che è cieco tocca le pecore non è che è perché non ci arriva non è che non sa fare il movimento per controllare se c'è qualcuno sotto è che lui non ha idea che esista un sotto che possa esistere una realtà sommersa sotterranea che va scoperta proprio perché ancora non ci è arrivata perché ciclope siamo alla proto-umanità alla proto-non-umanità alla proto-idea di che cosa possa essere un'interazione tra individui e poi c'è un'altra un'altra possibile traiettoria che è la parabola ma verso sopra la parabola verso sopra è una linea che in maniera molto furba molto ingegnosa traveste la realtà da un'altra cosa che in realtà non è una menzogna ben detta questo parlare con questa parabola verso sopra che fa questo questo arco questa linea che viene detta non dritta non storta non dritta che è un'altra cosa è il modo che ha Ulisse di comunicare e Ulisse voi sapete è stato anche abbastanza importante nel nostro immaginario nella cultura occidentale Ulisse è un simbolo di un certo modo di comunicare per il quale io non vado particolarmente non sono particolarmente una seguace di Ulisse sono una che ama Achille ma non so se di questo ne parleremo oggi detto questo non vi sembrerà strano che il mio approccio a ricordare il futuro parta da appunto un approccio etimologico che però forse disattendo e provo a fare un po' più fantasioso per me ricordare che letteralmente vuol dire riportare al cuore perché nell'antichità la memoria e il ricordo hanno sede nel cuore non nella testa sia in latino che in greco perché in greco il verbo è fiumo mai che ha pure il cuore dentro a me piace pensare però più che questo ricordare abbia a che fare con la corda che ha un'etimologia diversa però visivamente interessante prendere con una corda e avvicinare a sé possibilmente avvicinare al proprio cuore che cosa il futuro futuro deriva proprio dalla radice del verbo essere ricordare il futuro è anche un piccolissimo libro di benjamin dove quello che noi adesso ci diciamo viene detto con un'intenzione decisamente politica io vorrei spostarlo più sulla necessità invece e sulla possibilità che ci dà l'immaginare noi abbiamo una fiducia sconfinata nel passato e questo ha ragione ha ragione perché sia come individui possiamo avere fiducia in quello che abbiamo vissuto e sperimentato come società come civiltà ci affidiamo a ciò che ci è stato tramandato pensiamo tutta la tecnologia che è stata messa a servizio proprio di questo addomesticamento del passato mi piace vederlo come no addomestichiamo ciò che succede e lo rendiamo e lo rendiamo a nostra disposizione dalla dalla pittura dalle pitture sulle caverne alla scrittura che non è altro che far sì che la voce che è destinata a finire una volta che il suono si è estinto diventi invece a disposizione di quel senso a cui noi diamo appunto maggiore fiducia e qual è questo senso la vista ciò che noi vediamo è ciò a cui noi crediamo e quando ricordiamo non facciamo altro che richiamare nella nostra mente nel nostro cuore delle immagini esiste però un movimento uguale e contrario al ricordo che è proprio quello dell'immaginare anche quando immaginiamo noi creiamo delle immagini appunto e le proiettiamo però in un tempo che è un tempo libero un tempo difficilmente addomesticabile come quello del futuro diciamo che anche noi immaginando creiamo dei ricordi che ancora però devono essere vissuti e quando noi immaginiamo da creativi da narratori e questo è veramente il punto in cui io mi apro a voi perché è il punto su cui sto ragionando quando noi creiamo immagini da narratori non dobbiamo far altro che trovare da qualche parte il modo di dare fiducia a queste immagini dare la stessa fiducia che siamo abituati a dare al ricordo vissuto al ricordo sperimentato nel passato dare a ciò che ancora deve essere la vita un mondo immagini un posto dove stare dove poggiare detto così ora sembra aleatorio io però adesso attraverso alcuni esempi vi vorrei dire che non è tanto aleatorio è che la questione della fiducia la quale io tengo moltissimo è vera per due aspetti la fiducia che viene richiesta nelle immagini che creiamo noi da scrittori da inventori di qualcosa che ancora non c'è è una fiducia difficilissima da trovare ed è quella che purtroppo ci fa alzere dalla sedia e ci fa dire no va bene basta non ce la faccio questa cosa è una sciocchezza non ho tempo quando vacilla questa fiducia queste immagini che stavano cominciando a prendere forma diventano dei fantasmini e se siamo se ritorniamo se ritorniamo al lavoro possibilmente le rivitalizziamo ritornano a fuoco e poi diventano oggetto diventano una storia diventano un nuovo pensiero del mondo se invece desistiamo spariscono c'è un altro greco che a me fa particolarmente simpatia quello che adesso io vi dirò in modo maldestro perché appunto non sono nel mio campo di comfort come vi ho già confessato è l'Iliade lo racconta benissimo Carlo Rovelli nel suo libro sul tempo e in un video divertentissimo che vi invito ad andare a vedere proprio su Anassimandro Carlo Rovelli a Anassimandro andate su quel meraviglioso strumento che è Google e in 20 minuti lui ve lo racconta bene dunque Anassimandro siamo in quel periodo siamo nel 600 ante era volgare vive a Mileto e fa parte di quei filosofi che si sono fissati che devono scoprire qual è l'archè l'origine di tutto quelli acqua aria terra fuoco prevalentemente lui ha due meriti straordinari probabilmente ne avrà di più quelli che noi riusciamo a raccontare sono soltanto questi due c'è rimasto pochissimo di Anassimandro solo frammenti tramandati per lo più in ordine sparso c'è Aristotele che fa riferimento a lui però pochissime cose purtroppo la prima cosa è che lui dice no un attimo aria acqua terra fuoco non va bene perché tutti gli elementi mutano e si trasformano in qualcos'altro e quindi lui si tira fuori il concetto così semplice semplice di Aperon che è l'infinito che adesso diciamo infinito e ci sembra quasi che l'infinito è una cosa abbordabile che sappiamo quasi definirlo sebbene ancora oggi no vi sfido a farlo che cos'è l'infinito ma in quel tempo quando ancora proprio l'infinito non c'era sparare una cosa così grossa deve aver fatto tremare le ginocchia non pochi soprattutto tirarsi fuori mentre tutti dicevano aria acqua terra fuoco delle cose domestiche che si vedevano che facevano parte della vita di ogni giorno e invece lui per spiegare l'origine del mondo il mondo così come lo vediamo si tira fuori un elemento che al mondo non appartiene ma che consente agli elementi del mondo di far esistere il mondo non è da poco ma di lì da questa cosa se ne tira fuori un'altra che per certi versi è ancora più sconvolgente e che a me diverte moltissimo e che secondo me va richiamata tutte le volte che ci sentiamo particolarmente giù tristi basta pensare dove siamo collocati quanto siamo periferici per rimettere tutto in prospettiva dunque l'altra cosa di Anassimandro che ci interessa oggi pomeriggio è questa prima di lui a ogni latitudine e già il mondo era era un mondo interessante perché la civiltà cinese la civiltà egizia cioè si era espresso a livelli raffinatissimi però il mondo era la terra il basso e il cielo le cose pesanti cadono verso la terra le cose leggere vanno verso il cielo perché la terra non cade ma perché sotto la terra c'è ancora terra e sotto la terra ancora terra oppure questa è un'immagine che risponde la stessa domanda molto diffusa in oriente e la terra è sorretta da quattro elefanti che poggiano su un enorme tartaruga che poggiano su un grandissimo serpente chiaramente queste sono immagini simboliche e io sto semplificando però voglio dire se l'erano un po' raccontata su dove poggiasse la terra invece Anassimandro che continuava ad avere molto tempo evidentemente per osservare applicare tanto pensiero all'osservazione e ancora una volta torna la vista dice scusate però io non capisco io mi sveglio e il sole è là vado a letto e il sole è là poi mi risveglio l'indomani mattina e il sole è di nuovo dove l'ho lasciato prima e quindi dobbiamo trovare una spiegazione a questo per cui o c'è qualcuno o qua è là qualcuno che là lancia i soli qua che li toglie ci sono infiniti soli ogni mattina oppure magari il sole c'è una galleria sotto la terra e questo sole riesce a passare sotto c'è un buco oppure mi pare abbastanza probabile che passi sotto e per passare sotto mi viene quasi da suggerire che il cielo non è solo su il cielo è su a destra a sinistra e anche sotto e anche qua noi adesso ci sorridiamo ma ve li immaginate cosa vuol dire per l'essere umano convinto di poggiare su una cosa solida è quasi più tranquillizzante sapere di essere sopra quattro elefanti che poggiano su una tartaruga che poggia su un serpente che volare nel cielo col niente fa male e infatti cioè vabbè ma perché non cade di nuovo la stessa domanda e però stavolta Nassim Andro al perché non cade ha una risposta e dove dovrebbe cadere? Dov'è il basso? Dov'è questo? Ok se io lancio una cosa sulla terra cade verso la terra la terra non cade la risposta è stupenda per indifferenza perché destra sinistra sopra sotto per lei sono esattamente la stessa cosa quindi non sa da che parte cadere e resta ferma dà struttura a quest'idea magnifica ora io questa storia la racconto male e Rovelli la racconta meglio e ve la racconto però perché io da quando ho sentito di Nassim Andro e di questa rivoluzione immensa che ogni volta che la sento ripenso che ok ci siamo arrivati secoli dopo a mettere a posto le cose ma non c'è andato tanto lontano e noi siamo sopra un pianeta che galleggia di fatto e non lo sappiamo per quanto galleggerà e questo veramente deve fare relativizzare molte cose della nostra vita e abbracciare il mistero però quello che io trovo straordinario è che attraverso l'osservazione l'immaginazione la costruzione di un mondo altro con delle sue leggi si cambia definitivamente la realtà e da questo cambiamento della realtà cambia il pensiero non solo di chi ha immaginato questo cambiamento ma di tutti perché da allora è cambiato il sentimento dello stare al mondo di tutti e questa cosa vale per la fisica vale per le scienze e vale soprattutto per la letteratura ogni volta che noi esploriamo un sentimento in un modo diverso costruendo nuovi parametri stiamo regalando veramente occhi nuovi per guardare il mondo stiamo regalando nuova conoscenza questa è un'immagine che conosciamo tutti è l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci dove vengono rappresentate le proporzioni ideali è la perfezione dell'uomo che è talmente perfetto da essere iscritto all'interno di un quadrato e all'interno di una circonferenza il quadrato rappresenta la terra tutte le cose terrene il cielo e la circonferenza il cielo quindi anche le cose celesti dall'intersezione tra micro e macrocosmo questo essere perfetto che dà misura a tutte le cose e che è misura di tutte le cose ditemi se questa immagine non ha influenzato il nostro modo di pensare confidiamo tanto in questa immagine tanto che una delle 117 immagini mandate nel 2019 nello spazio perché semmai gli alieni dovessero spacchettare questa cosa che è stata mandata vedono l'uomo Vitruviano e hanno un'idea precisa di chi siamo noi vedo già una mano che fa così e questo mi conforta a parte il fatto che è decisamente un maschio sembra una cosa banale ma non lo è è inequivocabilmente un maschio un maschio bianco occidentale perfezione vogliamo parlare di perfezione ok eppure ancora oggi soprattutto se andiamo a una conferenza del mio ministro Giulio sono sicura che noi abbiamo queste immagini dietro per parlare di chi siamo noi a queste immagini vorrei affiancarne un'altra che io scopro grazie a Olga Tokarciuk di cui parleremo dopo e chi ha a che fare con me purtroppo sentirà di cui sentire a parlare spesso questa è un'incisione non si sa chi l'ha fatta ma che viene riportata da Flemmarion che era un divulgatore scientifico nel 1888 in un suo libro lui scrive tantissimo è astrologo si occupa di esoterismo e a un certo punto tira fuori questa incisione che racconta forse un altro modo di intendere chi siamo perché c'è tutto c'è tutto quello di c'è no un riassunto del mondo ben preciso c'è ci sono le chiesette c'è il mondo culturale c'è la natura c'è la vegetazione c'è il sole c'è le stelle c'è la luna e poi c'è un pellegrino ma vabbè qua io faccio una forzatura almeno è vestito e di spalle e forse potrebbe sorprenderci potrebbe essere una pellegrina una viandante non è inequivocabile come l'altra immagine però insomma qua so che sono io a forzare ma la cosa bellissima è che questo questo questa viandante arrivato alla fine del mondo da quella che noi pensiamo essere la fine del mondo è come se alzasse una tendina e si accorgesse che il mondo non è finito e che altro che cerchi e circonferenze e quadrati e proporzioni qua c'è una persona che mette in campo tutta un'altra dinamica ma si abbassa guarda è quasi stupefatto qua lo possiamo decidere noi che tipo di sentimento sta provando magari anche un pizzico di paura e però basta alzare la tenda e altri mondi altre possibilità sono a disposizione a me piace aggiungere anche un'altra lettura di questa incisione e che forse riguarda tutti e tutte noi più da vicino cioè sicuramente questo modo di rappresentare è finito è finito è finito un mondo fatto di perfezione di rapporti di armonia è finito anche il mondo dove al centro c'è un uomo bianco occidentale ho recuperato scusate i regali i regali della mezzetà mi impongono leva e metti occhiali ho trovato questa frase di montegna che mi è piaciuta moltissimo per fare da cerniera tra quello che abbiamo detto e quello che stiamo per dire la presunzione la presunzione è la nostra malattia naturale e originaria la più disgraziata e la più fragile di tutte le creature è l'uomo inteso come essere umano tuttavia egli si immagina di porsi al di sopra della sfera lunare e di poter mettere il cielo sotto i suoi piedi per la vanità di questa immaginazione egli si eguaglia a dio si attribuisce le possibilità divine attribuisce a se stesso ogni privilegio e si separa dalla massa delle altre creature divide in gruppi gli animali i suoi confratelli e compagni ed assegna loro come gli pare una parte di facoltà e di forze come può conoscere con la sola forza della sua intelligenza gli impulsi interni e segreti degli animali per mezzo di quale analogia tra quelli e noi egli deduce la mancanza di intelligenza che attribuisce loro e poi ho riportato la sua forse frase più famosa quando io gioco con la mia gatta sono io che mi diverto con lei o non è piuttosto lei che si diverte con me qua veramente vi sto aprendo quella che è il mio tavolo da lavoro questa immagine devo dire quando Montaigne parla del rapporto tra uomo e dio io a me un po' diverte di essere di essere donna e di essere dio insieme è una cosa con la quale gioco molto cioè l'idea sono abbastanza sicura che dio lo abbiamo creato noi e quindi questa capacità soprattutto col lavoro che tutti noi abbiamo scelto di essere in una certa fase divini nel momento della creazione perché quando noi creiamo una storia una pubblicità stiamo creando qualcosa che prima non c'era quindi stiamo partecipando della creazione divina e allo stesso tempo però di essere meravigliosamente artigiani c'è esecutori ossessivi di tecniche che devono essere passate e ripassate e però ragionare su un tipo di rappresentazione di chi siamo meno schematica e meno egocentrica aprendo la nostra curiosità e il nostro sguardo spostando il nostro punto di vista verso relazioni che fin qui sono state poco esplorate e quindi al mondo animale e vegetale perché fino ad oggi noi abbiamo no? noi siamo la cosa più importante dell'universo e però guardiamo che cosa abbiamo fatto delle cose straordinarie ma ci stiamo anche giocando il pianeta per questo questa postura che abbiamo assunto questa no? questa legittimando qualunque cosa perché noi veniamo prima degli altri anche da un punto di vista narrativo questo apre a praterie sconfinate di nuovi mondi e nuove relazioni da raccontare e quindi ho scelto tre esempi che che mi esaltano allora lei è Vincent Desprez è una filosofa della scienza belga è questo libro che credo è la cosa più sì stupefacente che io abbia letto negli ultimi anni si intitola autobiografia di un polpo e altri racconti animali lei è una scienziata si occupa di animali in particolare si occupa di polpi di api di formiche la sua missione se così possiamo dirla è quella di raccontare della vita animale della se gli animali hanno una coscienza come stanno come non stanno in questo libro che è indefinibile io non so se esiste un genere perché veicola sicuramente dei concetti che sono frutto di una ricerca scientifica ma lo fa come se fossero racconti perché utilizza ciò che ancora non esiste un futuro che ancora non abbiamo vissuto quindi non lo so che genere è decidiamolo noi però vi racconto questo lei cosa cosa immagina lei immagina che siamo nel 3000 e che esiste una branca della linguistica che si chiama terolinguistica tero vuol dire mostro in questo caso sono una linguistica applicata al linguaggio non umano capace quindi di decodificare i linguaggi delle altre specie e attraverso la terolinguistica si scopre che anche gli animali si divertono e non uso il verbo divertirsi a sproposito a scrivere a raccontare a creare un'epica della loro esistenza nella fattispecie nel capitoletto che io ritengo più gustoso e che non a caso dal titolo alla raccolta i polpi attraverso l'inchiostro scrivono e si esprimono per aforismi vi invito veramente a leggerlo perché c'è anche tutto il discorso che purtroppo sono rimasti pochi frammenti della scrittura dei polpi perché siamo nel 3000 e i polpi si sono estinti e lei attraverso gli aforismi dei polpi che raccontano che si raccontano come una specie che transmigra da un corpo a un altro non hanno più a un certo punto trovato corpi e si sono estinti e quindi attraverso questo escamotage lei racconta che cosa stiamo facendo ai polpi noi per adesso ma anche quali sono tutte le capacità che hanno i polpi perché i polpi giocano come giocano come applicano la loro intelligenza racconta anche di api e formiche ma vi ripeto quello che racconta dei polpi è veramente straordinario fa passare un concetto che per ora è uno dei concetti più cool passatemi l'aggettivo nella scienza che è quello dell'exaptation che suona benissimo se diciamo preadattamento effettivamente meno glamour che non è altro che quella cosa per cui tu hai una caratteristica che riguarda il tuo corpo il tuo soma nel caso degli uccelli per esempio le piume che ti servono per volare però poi quell'organo che ti serve per una funzione lo puoi utilizzare per un'altra l'inchiostro che i polpi hanno che è stato dato loro per difendersi per mascherarsi e difendersi quindi una funzione produttiva poi può diventare strumento di scrittura io trovo bellissimo questa cosa che lei dice in questa dimensione il fare finta di gli animali si mettono alla prova non solo come attori ma come drammaturghi perché lei dice a raccontarsi a sperimentare la narrazione i polpi ci arrivano attraverso il gioco il gioco negli animali come i sogni come i sogni dei gatti sono degli allenamenti scoprono l'atto della creazione l'unico attraverso cui si attinge alla formidabile riserva di libertà che offre la vita ciò che all'opera nell'atto ludico è stato messo a disposizione dell'atto narrativo è per questo che molti animali dotati per il gioco sono anche animali letterari e qua dovete capire un po' voi se vi riconoscete in questo se voi siete all'interno della vostra specie animali dotati per il gioco perché se lo siete verosimilmente se siete abituati fin da sempre al far finta di verosimilmente avete delle armi micidiali di narrazione e di creazione un'altra signora che ho già 80 anni e che è stata fondamentale per me da sempre che è Donna Haraway anzi c'era una diapositiva con la mia tesi laurea non vi ho raccontato una cosa buffa sempre per farvi capire da quale mondo vengo io la mia tesi si intitolava corpo at quindi la chiocciola corpo perché volevo fare un arditissimo paragone tra eravamo agli albori di internet e del web tra le mail che ci stavamo mandando e la comunicazione non verbale dei poemi omerici una cosa talmente riuscita che in commissione di laurea io sono stata chiamata a discutere corpo alfa corpo perché per loro quella chiocciola era l'alfa dell'alfabeto greco e insomma fin da allora fin dai tempi di quella tesi lì di corpo alfa corpo io frequento questa signora che un giorno sogno di conoscere che si chiama Donna Haraway Donna Haraway quando la frequentavo io era conosciuta per Manifesto Cyborg un libro dove la differenza di genere e tutti i problemi che noi facciamo legati alla differenza di genere già negli anni 80 lei li aveva superati immaginando una contaminazione talmente stretta tra l'uomo e la macchina che il genere sarebbe stata un problema che si autoririsolveva a me questo approccio che è maneggia la tecnologia in modo umano inglobando nelle possibilità che ha l'uomo e che ha la donna di farne qualcosa di proprio è una delle cose che mi affascinano di più ecco perché poi se volete ne parliamo non è tanto l'intelligenza artificiale che mi spaventa perché finché c'è artificio c'è umanità è l'intelligenza aliena e noi dovremmo cominciare a distinguere perché già quando noi parliamo di intelligenza artificiale molto spesso parliamo di intelligenza aliena aliena non nel senso che viene da un altro pianeta ma che non viene dall'uomo che ha un'autonomia tale da non essere più connessa a nulla di umano vi parlo di Don Harroway perché sempre ribaltando la prospettiva e assumendo che non esiste un'immagine finale del mondo e che il futuro ce lo scriviamo noi e ce lo scriviamo attraverso i nostri pensieri e attraverso il fatto che certe volte un po' come Anassimandro quando immaginiamo rischiamo di corrischiare in senso strutturante positivo quello a cui dovremmo tendere di scoprire una realtà più reale di quella che ci è stata data fin qui perché molto spesso quando raccontiamo quello che vogliamo fare e che vogliamo iscriverci alla scuola Holden non so se vi è capitato ma vi capiterà c'è sempre questo atteggiamento che noi abbiamo vogliamo avere a che fare con l'evanescente che immaginare è quella cosa superfua ma cominciamo a ribaltarlo quest'ordine di cose cominciamo a raccontare che molto spesso a noi tocca anticipare le realtà avvenire o aprire nuovi scenari a proposito di tutto questo tu lucerne sopravvivere su un pianeta infetto che è l'ultimo libro tradotto in Italia di Donna Haraway dice delle cose che per me sono imprescindibili che fanno parte della mia esistenza quotidiana e che non posso non tenere presente quando scrivo la prima è che siamo nei guai che il mondo ha un sacco di problemi e che però anziché mettere in campo una sorta di catastrofismo della riparazione quindi essere disposti a tutto dovremmo cominciare a imparare a fare pace con la fine questo in generale anche con la fine della vita umana con la fine del pianeta così come lo conosciamo con la fine del nostro modo di stare al mondo e a non essere assolutamente in una attitudine depressiva rispetto a questo perché lei dice stando a contatto con il problema diventando parte del problema stesso cominciamo a familiarizzare e forse solo allora potremmo essere spinti a vedere cose che fin qui non abbiamo visto l'altra cosa che per me forse è la più importante basta con questa cosa della consanguineità come se fosse la più importante ecco questa cosa di fate figli fare figli bisogna fare figli figli con legami di sangue no proviamo invece a ritenere più importante la possibilità di stringere parentele e questo è il primo livello cioè a considerare a dare la stessa importanza affettiva ma soprattutto la stessa sollecitudine che io sono disposta a dare a un mio consanguineo a qualcuno al quale idealmente allungo il braccio e dico da oggi tu sei mio fratello mia sorella non sto facendo la santona perché poi lei tra l'altro nel passaggio successivo rilancia però non sarebbe male più parentele meno figli siamo tanti siamo tanti e siamo sfidati a riconoscere la consanguinità nell'altro c'è una cosa bellissima io in classe lo dico sempre che la classe è uno spazio dove la sbaglianza l'errore è ben accetto perché l'errore è deviazione e divertimento ma soprattutto lo spazio è benvedente la benvedenza è uno spazio dove io guardo l'altro non soltanto cercando di vedere in cosa mi assomiglia quindi in realtà continuo a guardare me stesso ma guardo l'altro cercando di mettere a fuoco la sua diversità più è diverso da me più lo devo guardare con attenzione guardare l'altro in quanto è diverso da me la benvedenza bellissimo dicevo la posta si alza perché ok stringere parentele e a livello successivo stringere parentele interspecie non soltanto quindi tra esseri umani facciamo finta che lo abbiamo accettato che chi non è figlio a me è importante uguale ma lo stesso tipo di sollecitudine affetto io lo devo provare per piante animali pietre voi qua ho visto che avete Laura Tripaldi che viene a trovarvi di tanto in tanto che non lo so la prossima volta che viene io voglio ascoltarla dal vivo perché per me forse ecco forse avrebbe sicuramente trovato spazio in questa passeggiata nella mia testa perché lei sta facendo un lavoro sui materiali meravigliosi e fa vedere come guardare come applicare uno sguardo nuovo alla materia inerte può sovvertire moltissime certezze che noi abbiamo anche in ambito identitario perché nulla è fisso l'identità non è fissa non lo stiamo scoprendo adesso attraverso la fluidità la natura non è fissa non è fissa neanche le pietre non sono sempre la stessa cosa però meglio sentirlo da lei e l'altra cosa di donna Rui banale che è un po' che genera tutte le altre ma e che le tiene insieme è quella dell'interconnessione noi siamo veramente legati gli uni agli altri con dei fili quello che abbiamo sperimentato ma quanto eravamo distratti durante il covid forse facciamo tutti pizza perché abbiamo capito delle cose talmente importanti cioè abbiamo avuto prova fisica reale di cose che erano invece solo parole tipo quelle dell'interconnessione che io non mi riesco a spiegare del com'è che ce ne siamo dimenticate subito comunque e andiamo lei questa passeggiata confusa che stiamo facendo insieme dopo due filosofi della scienza un'americana una belga ci sposta invece con una a incontrare Olga Tokarczuk scrittrice polacca oggi ha 60 anni Olga Tokarczuk ha preso il premio Nobel nel 2018 nel 2018 il premio Nobel però non è stato materialmente assegnato perché c'era uno scandalo sessuale per cui l'ha preso insieme a Peter Henkle nel 2019 e questo è un po' secondo me è stata una piccola sfiga perché è come se fosse stata un po' oscurata cioè è sempre no è rimasto un premio Nobel dimezzato ma peggio ancora che quando doveva partire il suo tour mondiale dopo il premio Nobel è scoppiata la pandemia quindi lei è rimasta in Polonia e non tutti conoscono Olga Tokarczuk nonostante il premio Nobel ed è una follia e io qua non ho paura di essere smentita perché io sfido chiunque a leggerla e a non rimanere stupefatto se sembra naturale applicare occhi nuovi un nuovo modo di vedere alla scienza anche se abbiamo visto attraverso Vincent Despre che poi la scienza inevitabilmente si sposa con la narrativa è difficile forse bisogna fare un passaggio in più per applicarlo al romanzo e addirittura al romanzo storico perché perché siamo abituati che le storie si raccontano in un certo modo e sempre così sarà lei invece è proprio una capace di guardare tutto in modo diverso in modo assolutamente nuovo come se avesse perfettamente introiettato la lezione intanto che siamo interconnessi che dobbiamo stringere relazioni interspecie che possibilmente se interrogo una pianta una pietra questa ha qualcosa da dirmi e contemporaneamente si è presa una responsabilità che per me come narratrice è molto importante anche quando maneggiamo il passato lei ha scritto un romanzo storico di mille rotti pagine che si chiama i libri di Jacob ve lo leggo i libri di Jacob o il grande viaggio attraverso sette frontiere cinque lingue tre grandi religioni senza contare quelle minori narrato dai morti e dall'autrice completato col metodo della congettura da molti e vari libri attinto è sorretto inoltre dall'immaginazione che dei doni naturali dell'uomo è il più grande è un romanzo storico lei ha avuto un sacco di problemi per questo libro in Polonia perché racconta la figura controversa di Jacob che per gli ebrei più polacchi è una figura assolutamente problematica ci ha messo nove anni a scrivere questo libro che è frutto di ricerche proprio disperatissime e non si può non definire un libro storico ma non ha avuto nessuna remora all'interno di questo libro di sperimentare perché era funzionale al racconto e di fare parlare anche un personaggio morto che a un certo punto come un drone vola soprattutto sopra sopra la Polonia sopra l'Europa del Settecento è un libro ambientato nel Mille Settecento e parla in una sorta di quarta persona perché non è una terza è una persona è una nuova dimensione anche del linguaggio questo perché dal suo punto di vista era importante raccontare delle cose che la storia ha tralasciato e questa non è un'operazione di finzione è un modo diverso di illuminare la stanza direbbe Flannery O'Connor perché questa stanza che è la storia finora fino a qualche tempo fa meglio è stata illuminata da quell'uomo prodotto da Leonardo da Vinci un uomo bianco maschio la storia è stata raccontata così e molti punti non sono stati illuminati e adesso bisogna prendere il coraggio di illuminarli ma non per un esercizio di bravura perché è figo che a un certo punto c'è una morta che muore si alza e può raccontare le cose che gli altri non vedono no questa è una responsabilità etica se vogliamo politica so che fa paura questo termine oggi però è una responsabilità sicuramente etica di offrire strumenti di costruzione del futuro anche sulla religione nella quiete del tempo che è un libro che di fatto racconta l'invasione della Polonia da parte dei tedeschi nella seconda guerra mondiale il libro racconta questo però noi non avremo mai la descrizione della guerra noi racconteremo di questo paese che prima che arrivasse la guerra si sentiva al centro del mondo si sentiva anche il posto più bello del mondo protetto da quattro angeli e quello che viene raccontato è come la guerra sono degli scarponi che si sentono in lontananza a un certo punto e che cominciano a calpestare un prato e a calpestare dei fiorellini e a calpestare degli insetti dalla distruzione di questo campo si innesca un cambiamento che coinvolge la vita e il tempo interiore di tutti i personaggi adesso vi ho raccontato solo un aspetto questo modo di raccontare la storia è un modo assolutamente nuovo che ti obbliga a guardare un prato a guardare un cane perché uno dei capitoli più belli riguarda un cane in modo completamente diverso e che ti cambia cambia il tuo modo di essere e di come vorrei essere nel futuro il tenero narratore è uscito da poco è stato tradotto da poco in Italia e questo io veramente ve lo consiglio sono tutti i suoi articoli su che cosa vuol dire narrare porta i capelli così non è non sono dei dread normali è un'acconciatura tradizionale polacca perché lei dice che una donna dopo i 50 anni smette di essere visibile non viene più vista e allora questo suo modo di riportare un'acconciatura tradizionale di farla sua è un modo per inchiodere là lo sguardo degli altri e farsi vedere avere chiesto ma perché porti i capelli in questo modo allora cosa imparo da Olga in realtà questa diapositiva è stupida e sono anche tentata di saltarla perché non lo so tanto non smetto di imparare vi volevo leggere la motivazione del Nobel per un'immaginazione narrativa che con passione enciclopedica rappresenta l'attraversamento dei confini come forma di vita e qua vi ricordo l'immagine di quello quella viandante che è arrivata alla fine del mondo alza la tendina e vede che c'è ancora tanto altro da raccontare che è una motivazione che io trovo bellissima l'attraversamento dei confini è fondamentale e quando li abbiamo quando abbiamo attraversato un confine se ne siamo capaci proviamo ad avvicinare confini che fino a ieri erano lontanissimi perché sicuramente accade qualcosa di interessante tra le cose che mi piace così condividere con voi oggi pomeriggio c'è lo Tsim Tsum che è una cosa che Olga recupera dalla cultura ebraica e che secondo me è molto utile ai narratori lo Tsim Tsum è essere consapevoli del fatto che Dio per creare il mondo deve aver rifatto spazio e quindi si deve essere un po' ritratto e là dove non c'è Dio dove Dio ha fatto spazio c'è il mondo e questa è un'immagine che a me piace moltissimo perché è proprio è l'assenza di Dio che crea Dio è il mondo di Dio mi stimola moltissimo quando penso ma che si è rivelata particolarmente utile nella scrittura perché quando scriviamo e appunto come dicevo prima dobbiamo attingere la nostra qualità divina di essere dei creatori molto spesso abbiamo la tentazione di non lasciare spazio anzi di espanderci e prendere tutto riempire tutto lo spazio con quello che siamo noi e quello che c'è dentro di noi invece questa piccola ritrazione lasciando uno spazio vuoto è un movimento necessario per non infettare troppo della nostra autobiografia del nostro bisogno di dire del nostro bisogno di io che certe volte può essere un attentato alla scrittura beh i viaggi anatomici questa è una cosa che vi invito a scoprire perché i vagabondi che è uno dei libri che le ha dato maggiore successo che è una raccolta di attraversamenti di confine vari a un certo punto fa viaggiare anche all'interno dell'anatomia umana in un modo che è una sorta di esplorando il corpo umano però letterario tutto il resto ve l'ho già detto è un'altra cosa che mi è capitato di leggere proprio nel tenero narratore è il fatto che dobbiamo recuperare la capacità di scandalizzarci di quello che è atroce perché abbiamo la per costituzione senza farcene una colpa l'uomo la donna si abituano a tutto ci abituiamo alle cose peggiori e lei dice però che questa cosa porta a una pigrizia percettiva cioè nell'abitudine che noi abbiamo a ciò che non ci fa sussultare voi immaginate soltanto mettete a fuoco due o tre cose che stanno accadendo in questo momento mentre siamo qui dovremmo non essere sereni e dovremmo essere anzi sussultanti e quello che lei dice è però che noi se ci lasciamo possedere dalla pigrizia percettiva abbiamo la colpa di stabilizzare il male ne diventiamo in qualche modo complici sì spero anche meglio ok se noi ci ci lasciamo prendere dalla pigrizia percettiva abbiamo la colpa di stabilizzare il male stabilizzare il male ce ne fa immediatamente complici per cui il suo auspicio è che si possa recuperare una visione dolorosa la visione dolorosa non è quella che ci deve portare a essere addolorati per tutta la nostra esistenza o quella cosa dalla quale io per prima cerco di scappare che per creare scrivere devi per forza addolorarti di tutti i mali del mondo sebbene è la ricerca della verità che di per sé mettiamola così se non è dolorosa è sicuramente faticosa e quindi ci fa stare in un atteggiamento di sollecitudine costante e quindi mettiamola così siamo affaticati se non addolorati affaticati recuperare la visione dolorosa è guardare guardare e non rassegnarsi al fatto che dovrà andare sempre così perché noi possiamo cominciare a ricordare un futuro diverso possiamo lavorare a dei pensieri a dei mondi a delle creazioni che ci aiutano a costruire un futuro diverso volevo aggiungere questa frase di Flannery O'Connor che se frequenterete insomma queste stanze avrete modo di sentire citare spesso sia la frase che in generale Flannery O'Connor può darsi non vi sia ma niente di nuovo da dire ma c'è sempre un nuovo modo per dirlo e dato che nell'arte il modo di dire una cosa diviene parte di quel che è detto ogni opera d'arte è unica e richiede rinnovata attenzione che è un po' la sintesi di quello che ci stiamo dicendo il modo non ha a che fare soltanto con la scrittura con il ritmo con la persona che c'è anche il modo ha a che fare anche appunto con la luce nella stanza dove dove voglio accendere questa luce che luce voglio accendere per illuminare questa stanza là dove la stanza è il campo d'azione di ciò che io voglio raccontare che dobbiamo immaginare come una stanza buia io entro e già se scelgo di illuminarla con una candela il mio modo di vedere sarà uno se accendo un faro sarà un altro se metto dei neon dei led tutto attorno e accendo tutto sarà un altro ancora quel modo già dice qualcosa di molto forte su noi e la cosa che stiamo raccontando a proposito di modi e su un passato che non finisce di essere stimolante per raccontare il presente e raccontare il futuro lei è una rapper americana è una poetessa si chiama Kate Tempest è antichi nuovi di zecca è proprio un poema epico scritto in versi che recupera tutti i miti più famosi dai di Ipo ai tragici e li racconta però sotto forma di dinamiche familiari però con questa cosa veramente straordinaria del ritmo e del verso del verso poetico e qua è il modo che ti riporta veramente ti fa sentire quanto vicini sono i nostri drammi familiari sentimentali con quelli degli eroi tragici e poi qua io sono andata in niente quanto mi sono divertita non lo so credo di averlo visto in un giorno inizialmente schifata inizialmente ho detto ma che cos'è questa roba qua non l'avevo capito completamente non l'avevo capito completamente e a parte la 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 bravura del modo perché ora ci vuole è raccontata è fatta la scelta degli attori delle musiche dell'ambientazione lo styling il modo in cui sono vestiti è tutto parlante ed è tutto parlante in un'unica direzione c'è un modo caos non è soltanto sai che c'è adesso ti prendo pollon pollon conoscete ma ho paura che sia un punto di riferimento troppo antico cartone animato che raccomando nella cima dell'Olimpo prendo l'Olimpo prendo gli dei che sono sempre un bottino ghiotto a cui attingere e ci faccio una serie tv e la faccio figa qua per me siamo totalmente nell'immaginare una realtà più reale e predisporci a un mondo diverso perché caos è una serie tv che racconta come abbiamo delegato a pochi potenti ricchi il nostro libero arbitrio è una serie sul libero arbitrio e sul fatto che noi ce lo stiamo giocando siamo sul campo di Dostoievski versione serie televisiva e dirlo non è soltanto un'azione di denuncia riuscire a dire in modo chiaro pervasivo incisivo che stiamo abbiamo abbiamo ceduto buona parte del nostro libero arbitrio a pochi ricchi potenti ci ha portato a vivere il mondo schifoso che stiamo vivendo raccontarlo vuol dire che noi abbiamo il diritto di pensare che fra 10 20 30 anni non sarà più così non deve essere più così io ho scritto un libro dove gli anziani vengono fatti fuori a 70 anni non perché voglio raccontare un futuro in cui gli anziani vengono fatti fuori a 70 anni io voglio raccontare voglio fare vedere che stiamo scivolando verso un mondo la distopia non è nel mio romanzo la distopia è nel mondo che stiamo vivendo adesso noi stiamo vivendo un mondo dove ci stiamo giocando il pianeta e a un certo punto non ci sarà spazio per le nuove generazioni e messi con le spalle al muro costretti a decidere tra vita morte e sopravvivenza pur di sopravvivere faranno si farà di tutto il mio prossimo agone qua è veramente una cosa che condivido con voi è una storia che riguarderà che avrà Achille come protagonista l'Achille dell'Iliade al quale ho dedicato il romanzo attingerò all'Iliade il personaggio lo pesco da lì ma io voglio raccontare che cosa sarebbe stata l'umanità oggi se anziché scegliere il modello furbo e menzognero quello delle scorciatoie quello di Ulisse se anziché diventare Ulisse il nostro eroe amato che anche l'eroe della propaganda della guerra avessimo scelto Achille che cosa saremmo stati e provare a vedere se Achille in realtà che è ricordato come l'eroe feroce e se lui invece fosse un modello di pace si è guardato con occhi diversi con gli occhi che io posso avere solo oggi se Achille è raccontato con gli occhi di oggi e con la conoscenza di oggi potesse essere fuoriero di un mondo di pace questa è un po' la sfida ieri mi hanno pure assegnato devo scrivere un racconto e consegnarlo entro il 29 ottobre che è domani praticamente e mi hanno detto vabbè visto che tu hai scritto questo libro devi raccontare di una ragazza di 20 anni nel 2055 nel futuro non so perché chi è un giornale che me l'ha commissionato si è anche permesso di dirmi come avrei dovuto fare io inizialmente sono una persona abbastanza ubbidiente ok va bene poi probabilmente anche grazie al fatto che stavo ragionando su quello che vi volevo dire oggi io ci ho pensato e adesso la sfida siete i primi a saperlo io voglio provare a immaginare questa nel 2055 ma in un mondo che vale la pena vivere dove vale la pena avere 20 anni e voglio assumermi la responsabilità di risolvere un po' di cose e vediamo che succede anziché già sentirmi sconfitta perché in partenza avevo già pensato vabbè faccio uno spin off di si para dai sprendo una diventa già avevo creato una società terrificante no proviamo a vedere se lo posso immaginare in modo diverso non so chiore sono non so quanto ho parlato ma non in poi tanto non lo vedo senza occhiali prima di rispondere alle vostre domande se ce ne sono io volevo lasciarvi con un video che adesso partirà in modo perfetto il video dura in realtà 10 minuti ho tagliato questi sono solo 5 ero indecisa perché parte della lunghezza è parte della sua bellezza è un video di Bill Viola Bill Viola è un artista che ha utilizzato la video arte per esprimersi è morto da poco e lui è stato molto importante per la per la mia scrittura ve lo faccio vedere perché spero che possa farvi pensare che il punto che il punto di vista che è la prima cosa una delle prime cose a cui dobbiamo badare quando cominciamo a raccontare una storia non è importante solo dove lo collochiamo nello spazio ma anche allenarsi a scegliere un punto di vista nel tempo può essere importante e l'altra cosa è che siete assolutamente liberi voi siete manipolatori di futuro manipolatori in senso bello scultori di futuro in ogni caso qualunque cosa deciderete di fare voi darete forma a un futuro che ancora non c'è e grazie al cielo c'è massima libertà allora ce lo guardiamo insieme anche superando i primi secondi di noia e poi ecco ora dovrò chiedere l'aiuto da casa grazie a tutti 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 lì ci sono soltanto delle piccole gocce è facile pensare a come ha fatto però non lo so da quando io ho scoperto Bill Viola mi piace tutte le volte che comincio a scrivere avere l'ambizione di potere volendo fare questo fare in modo che Tristano lì morto ascende al cielo di nuovo grazie grazie